Candinsky fa parte, lo abbiamo visto con Vrubel, di una serie di gruppo di persone che non si vogliono accontentare della superficie, che vogliono andare al di là, che cercano di trovare l'anima della Russia, che non è, ripeto, nei valzerini danzati nei palazzi degli aristocratici. Vogliono scavare fino a trovare il cuore pulsante della Russia. Vi ho detto di Vrubel, questo è l'illustratore Bilibin, che illustra le famose fiabe russe. Le fiabe russe sono magnifiche, se ne accorse già Pushkin, che ne fece una versione letteraria, hanno appunto quella incredibile ricchezza che viene dalla confluenza di più tradizioni. E ci sono i vichinghi, e ci sono le popolazioni altaiche, e c'è l'Oriente, c'è la Cina. Quindi, nelle fiabe russe c'è tutto questo, ben più di quanto accada nelle fiabe scritte a tavolino nel Settecento. Forse, se volete, può esserci qualcosa di simile nel meraviglioso arcaismo delle Mille e una Notte, nella meravigliosa complessità narrativa delle Mille e una Notte. Tra l'altro, le fiabe russe saranno poi studiate da uno dei primi grandi interpreti della tradizione favolista, cioè Vladimir Propp, che pubblicherà nel 1928 Morfologia della fiaba. Qui vedete un principe e attenzione alle decorazioni delle stoffe, attenzione ai motivi dello scialle della donna, perché tutti questi motivi li ritroveremo. E non sono casuali. Sono motivi arcaici che Bilibin trova nelle stoffe, nei tappeti, e davanti allo sguardo stupito del principe c'è un meraviglioso Kreml. Il Kreml è l'acropoli delle città della vecchia Russia, dove sbocciano le cupole color d'oro e color lapislazzulo, dove la città murata fa pensare inevitabilmente a una Gerusalemme celeste. Guardate questo Kreml, che è diventato poi per antonomasia il nome di Kremlino, ma in realtà il Kreml esiste, ripeto, in tutte le città della vecchia Russia, e lo ritroveremo, e lo ritroverete, in numerosi dipinti kandinschiani. Anche qui, illustrazione di Bilibin per una di queste fiabe. Oggi le conosciamo attraverso i cartoni animati, sicuramente hanno fatto da fonte di ispirazione per tanti e tanti artisti e letterati. Anche qui guardate motivi decorativi che vengono dall'Iran, vedete le decorazioni invece di origine scitica, qui vedete l'albero della vita. In maniera più o meno conscia, Bilibin, come fa Klimt nel freggio di Beethoven, usa motivi decorativi che si trovano nelle stoffe, nei giocattoli, nei legni intagliati, delle isbe di una Russia che sembra così remota nel tempo. E non c'è solo Kandinsky, in realtà, tutta l'epoca di Kandinsky è un'epoca, appunto, di indagine etnografica. Quando io uso questa parola, così come la parola antropologico, apro porte infinite che offrono il drestro a continui scivoloni verso il colonialismo, verso il potere di un popolo sull'altro, verso il saccheggio culturale. Kandinsky va in questa terra del nord e cerca di capire come vivono i contadini, cos'è bello per loro. Allo stesso modo, un personaggio dalla vita incredibile, perché poi va detto che questi signori di cui vi parlo, presi uno per uno, hanno condotto una vita al cui confronto, io non so la vostra, ma la mia è, sin da quando sono nata, una vita da pantofolaia. Passavano da un continente all'altro, questo Röhrich, che è l'autore di questo dipinto e di altri dipinti stranissimi. È uno che ha conosciuto Hermann S., Tagore, ha cercato di capire quanto Zarathustra avesse influenzato le popolazioni slave. Ripeto, per noi è molto difficile, perché, per esempio, adesso è in mostra al MUDEC non solo Kandinsky, ma anche una mostra sui cinesi a Milano. E come possiamo affrontare questo argomento? Il nostro Röhrich, antropologo, studioso di tradizioni popolari, qui dipinge una nave vichinga e cerca quindi di rimmergersi nella epopea del mondo finnico, del mondo scandinavo. Lo stesso Röhrich, che per campare farà le cose più strane, ma va detto anche che quasi tutti questi personaggi, ivi compreso Kandinsky, dovevano avere un carisma assoluto. Non solo viaggiavano tanto e vedevano i posti più incredibili e affrontavano le situazioni più difficili, ma dovevano avere una tale carica interiore, chiamiamola per comodità spiritualità, che arrivano a mettere in ginocchio miliardari americani, che si creano intorno una cerchia di illuminati. Guardate qui tornare il tema della montagna, che è un tema così importante per questo periodo. E questo è un dipinto di un personaggio che avete forse visto anni fa in una mostra organizzata da Martina Mazzotta coraggiosamente a Palazzo Reale. Il pittore lituano Ciurlionis, un mondo di magia che, ripeto, scappa dalla concezione eccessivamente ristretta di un razionalismo che priva l'uomo di una buona parte della sua sensibilità. Ciurlionis è stato musicista, è stato pittore, studioso degli astri. Qui vi faccio vedere questa immagine in particolare di Ciurlionis, perché vedete che c'è un protagonista con l'arco. Innanzitutto vi devo ricordare che sul Caucaso, secondo la tradizione, sarebbe stato incatenato niente meno che Prometeo. E che quindi l'aquila che lacera le viscere dell'amico degli uomini che ha rubato agli dèi il fuoco è l'aquila che sorvola il Caucaso. E poi vi faccio vedere questa immagine perché c'è l'arco. L'arco è l'attributo dei popoli del nord a cui arriva Kandinsky. Dico attributo ma vorrei dire qualcosa di più, un oggetto sacro. Quando andrete alla mostra del Mudec vedrete dei mestoli, vedrete delle conocchie che servono per filare. Oggi un mestolo è un mestolo. La cosa che chiedo a un mestolo è di essere ben fatto in modo da consentirmi di fare rapidamente quello che desidero fare. Scoprirete invece che lì, nelle civiltà tra virgolette primitive, l'oggetto è importante quando è sacro, perché la funzione che svolge è sacra. Il design di oggi ci vetta con questa visione. Il mestolo che distribuisce il cibo è sacro. È l'arco del cacciatore, che è il collegamento tra il mio occhio e la preda e che quindi è strumento di vita e affermazione del mio sguardo. Anche questo arco è sacro. Kandinsky firmerà una parte delle sue opere mettendo la lettera K all'interno di una forma ad arco. Faccio un salto di parecchi decenni ma vorrei appunto che questo incontro non fosse la pedestre narrazione che ormai potete trovare dappertutto sulla vita di Kandinsky che pure seguiremo. Quel personaggio che vi ho mostrato nel quadro di Churlionis è uno sciamano e quando Kandinsky arriva a Vologda vede sicuramente delle cerimonie sciamaniche. Cerimonie sciamaniche che vuol dire che un sacerdote io uso tutti i termini naturalmente impropri ma per farmi capire mette su di sé pelli di cavallo pelle di lupo e con questa operazione acquista il potere del lupo e del cavallo. lo so che cosa pensate pensate che tutte queste siano fumisterie che la nostra tecnologia ha ampiamente superato e il discorso è super scivoloso siamo tanto convinti di vivere in un mondo super razionale peccato che ciascuno di noi abbia piccole superstizioni piccoli o grandi che ciascuno di noi segua delle regole magari in maniera inconscia che non vengono dalla razionalità parliamo di un'epoca la nostra in cui appena chiudono i negozi del quartiere di Brera delle lettrici di carte aprono il loro banco e prosperano grazie alla presenza di persone che potreste essere voi o potrei essere io assolutamente razionali lo sciamanesimo quindi sfruttare usare alcune possibilità che sono dentro di noi e che proprio la razionalità ha ucciso è un po' il fil rouge anche del testo che Kandinsky scrive lo spirituale nell'arte chi va nei musei e si limita a guardare il quadro e dire bello bella composizione bel colore toglie all'arte una facoltà antichissima e primaria che è il demoniaco per il popolo presso cui va Kandinsky sfiorare l'icona vuol dire arrivare al sacro lo so di fare un discorso difficile e che sbalestra le nostre coordinate ma pensate che nella Tretiakov da cui vengono molte delle opere che sono alla mostra del Mudec e dove ecco il ritratto di Tolstoi che vi ho mostrato la Madonna di Vladimir che è l'icona più antica è stata messa in una sorta di tempio perché la gente che entra alla Tretiakov vuole pregare davanti alla Madonna di Vladimir io non ho mai visto nessuno pregare davanti alla pala di Piero della Francesca a Brera abbiamo trasformato la nostra concezione dell'immagine allora se questi ci sembrano solo dei personaggi dalle idee confuse appunto fin de siècle questo signore dal passo così sicuro è molto più vicino a noi si chiamava Joseph Beuys è stato il leader delle mostre di arte contemporanea degli anni 70 ebbene Beuys era stato richiamato in aviazione giovanissimo con gli ultimi reclutamenti di un regime nazista ormai sul finire quando ormai si richiamavano ragazzi quattordicenni messo su un aereo l'aereo precipita nelle pianure della Mongolia intorno nessuno il piccolo Joseph ha vicino il pilota quello vero morto sfracellato in mezzo alla carcassa dell'aereo arrivano delle popolazioni nomadi che prendono il giovanissimo Beuys pieno di ferite clinicamente morto lo avvolgono nel feltro e con una serie di procedimenti sciamanici Beuys ritorna in vita questo è quello che racconta Beuys io non voglio assolutamente passare per una charlatana vi invito però a riflettere su quello che sappiamo e su quello che non sappiamo sul fatto che spesso conduciamo la nostra vita seguendo dei binari che sono dei binari che sono già stati determinati e che tutto questo ci sembra la razionalità ma non è detto che quella sia la razionalità e infatti le lezioni di Beuys e qui ne vedete una foto e siamo all'inizio degli anni settanta erano degli autentici movimenti sciamanici per ricondurci ad argomenti se volete più accessibili a tutti noi chi non sa che è la psiche a condizionare il nostro corpo e noi che siamo così razionali non andiamo su internet a scaricare il sito sulle erbe che fanno bene o il miracolo che toglie le rughe quanto quanto è coriacea quanto resiste la nostra razionalità e a questo proposito giacché dobbiamo parlare di un argomento importantissimo in questo senso vi faccio confrontare due personaggi lontani nel tempo più lontani di Kandinsky lui è Isaac Newton e lui è Wolfgang Goethe Newton dice i colori sono un fenomeno elettromagnetico assolutamente governabile solo scienza e quindi io posso studiare le rifrazioni cromatiche so che con questi con questa tecnica otterrò quel colore quel colore avrà una determinata influenza su altri colori Newton è chiaramente uno dei protagonisti della scienza moderna ma questo signore non era uno scemo Wolfgang Goethe è stato un genio comparato da tanti a Leonardo per la poliedricità dei suoi interessi si è occupato di botanica di mineralogia di tutte le scienze possibili oltre a scrivere uno dei testi più più ricchi e più complessi di tutta la storia occidentale cioè il Faust e Goethe dice ma il colore non è solo un fenomeno elettromagnetico il colore ha qualcosa che dipende dalla nostra psiche e l'invisibile condiziona il visibile naturalmente quando Newton e Goethe si contrapposero si schierò gli scienziati si schierarono da una parte e dall'altra e la scienza ufficiale scelse Newton ma un personaggio di grande fascino altrimenti non avrebbe avuto l'eco che ebbe che si chiamava Rudolf Steiner disse ha ragione Goethe e dopo aver letto chiosato tutte le opere scientifiche di Goethe creò una filosofia complicatissima per cui io non mi cimento ma che si chiama antroposofia e che cerca di recuperare il rapporto tra l'uomo e il cosmo che ha attorno attraverso una serie di movimenti di riti e questo che vedete è un edificio costruito costruito su piano dello stesso Steiner a Dornach in Svizzera che si chiama Goetheanum ve lo faccio vedere non solo per seguire questo discorso su ragione ufficiale e altra ragione ma perché sappiamo con certezza che Kandinsky seguì sia le lezioni di Steiner sia le lezioni di Annie Besant che di Madame Blavatsky insomma di tutto un circolo di personalità che volevano appunto contrapporsi alla ragione tra virgolette ufficiale dopo questo viaggio nel nord della Russia e questo contatto così proprio direi materno con la terra di Russia Kandinsky si rende conto di non voler più fare l'avvocato e lascia Mosca un po' perché è un curioso e un po' perché fare il pittore in una città dove ti conoscono come avvocato effettivamente qualche problema lo può dare può scegliere tra due città una è Parigi la città più in vista evidentemente in quel periodo e l'altra è Monaco di Baviera Kandinsky sceglie Monaco anche se fa un viaggio che lo porta attraverso la Francia e Kandinsky che come vi racconterò è in realtà un mistico d'altra parte fino ad ora ne abbiamo parlato quando racconta la propria storia non parla del viaggio in Francia essendo un mistico ritiene tutta la sua vita fatta di illuminazioni quindi non ammetterà mai il suo debito nei confronti di Van Gogh di Gauguin e di una civiltà francese che trovava complessivamente abbastanza detestabile proprio perché è la civiltà dei Lumi perché è la civiltà della Francia del Settecento sceglierà invece Monaco Monaco di Baviera che ha questa storia culturale straordinaria che agli inizi del Novecento è in pieno fulgore ci è passato Nice che ha una storia che ha un ruolo fondamentale per il nostro percorso è una città di musica quindi non lontana da Bayreuth ha visto Wagner vede Richard Strauss e le pagine meravigliose di Strauss e dei libretti per le sue opere di von Hoffman Stahl quindi Kandinsky sceglie Monaco e a Monaco svilupperà un'altra parte della sua poetica un altro cavaliere questa volta il Parsifal e anche lì Wagner si può cercare di buttarlo fuori dalla porta ma rientra dalla finestra è presente in tutte le opere moderne il Parsifal poi di cui qui avete una delle tante illustrazioni che ebbe un successo immenso è questa parabola del cavaliere puro così puro da poter cercare il graal e da poter conoscere il linguaggio degli uccelli pensate che meravigliosa che meraviglioso sogno un uomo che ritrova il suo contatto con la natura in maniera così intensa da capire tutto quello che si dice intorno a noi perché certamente gli uccelli dicono qualcosa perché certamente tutti gli animali parlano Parsifal quindi l'eroe e Wagner a sua volta aveva tratto la immagine del cavaliere non solo dal ciclo arturiano ma una delle immagini più popolari e più grandi dell'arte tedesca cioè il cavaliere la morte e il diavolo di Albrecht Dürer Dürer guarda caso studioso anche lui di quella scienza altra che ben si rivela nel suo autoritratto di Monaco e che firma con questo lettera A al cui interno è una D quasi una A come una porta iniziatica il writer il cavaliere sempre Dürer i cavalieri dell'apocalisse e anche qui quanti quanti legami proprio come quelle nuvole che abbiamo visto nelle rappresentazioni popolari popolari Dürer il grandissimo Dürer vissuto agli inizi del Cinquecento incide il cavaliere la morte e il diavolo e ci lascia una delle più straordinarie rappresentazioni dell'apocalisse di cui qui vedete la rappresentazione della corsa ecco ancora il cavallo dei cavalieri apocalisse apocalisse fine del mondo palingenesi vedete che tutto ritorna a un discorso complesso ma che secondo me dà una sensazione poi quando si quando si riesce ad avere in mano di pienezza assoluta io credo che il vero modo e Kandinsky penso sarebbe dalla mia parte per capire la vita e sentirla in tutti i suoi aspetti senza mai avere preclusioni ecco Kandinsky appartiene a questa a questa schiera se volete chiamarla così chiamiamola di illuminati ed è Kandinsky l'autore di questa xilografia che è presente in mostra è appena arrivato a Monaco e rappresenta un Parsifal lo vedete che saluta la sua donzella un giovane cavaliere e in mostra vedrete diverse incisioni Kandinsky a Monaco segue all'inizio dei corsi di arte poi si rende conto e questo è tipicamente suo che non ha bisogno di seguire alcun corso che anzi gli insegnamenti lo distraggono da quella che è la sua vera Kunstvollen cioè la sua vera volontà d'arte che punta su altre dimensioni e adesso tutta ripeto questa questa ricerca che io ho trovato molto appassionante e spero possa dire anche a voi qualcosa di più dovrebbe aiutarci a leggere questo delizioso San Giorgio che è in mostra e che è appunto del periodo di Monaco c'è un po' tutto c'è il cavaliere naturalmente il cavaliere che ha uno scudo decorato con questi motivi circolari che sono il motivo del sole nelle popolazioni tribali San Giorgio che uccide il drago il drago che esce dalla grotta anche questo un tema importante ma è anche uno dei pochissimi giochi di humor di Kandinsky che non era uno spiritoso infatti se leggete i suoi libri sono spesso una pizza terribile però in questo caso Kandinsky ha una punta di verve e il drago lo vedete ha dei deliziosi occhioni ciliati ha però un fiato poveretto mefitico e ha seccato le piante che crescono davanti alla grotta mentre prospera di colori magici l'albero elegante che si china quasi a rendere omaggio alla bella principessa smorfiosa che vedete qui che aspetta di essere liberata e che ha un kokoshnik cioè un copricapo delle ragazze russe che si sposano ma c'è anche il Kremlin quello che abbiamo visto in Bilibin la città sognata la Gerusalemme celeste e dietro alla principessa ci sono delle tende sono le iurte dei mongoli come quelle che vedete in questa foto pensando anche qui che viene veramente voglia di cavalcare e questo tema del cavaliere prende Kandinsky che intanto lavora sulle conferenze di Steiner sulla possibilità di esprimere la musica attraverso il colore ma questo appunto è l'argomento che tra breve affronteremo qui è ancora tra virgolette figurativo dico tra virgolette perché in realtà quando io vado nei centri di artisti moderni mi dicono piacere io sono guido e sono un figurativo e poi si presenta l'altro e mi dice io sono Pietro e sono un astrattista e naturalmente i due non dialogano arte astratta arte figurativa due mondi Kandinsky invece dice l'arte astratta parte dall'arte figurativa e può tornare alla figurazione e poi ritornare all'astrazione si tratta di momenti di vita di momenti di comprensione della vita eccolo qui 1911 questo è la copertina dell'almanacco del Blaue Reiter appunto il Cavaliere Azzurro immagino che molti di voi abbiano visto a Monaco il bel museo che è stato recentemente ampliato da Norman Foster proprio dedicato a questo movimento che dura in realtà pochi anni al 1914 quando Kandinsky ma poi ve lo racconterò lascia la Germania e torna in Russia e quando scoppia soprattutto la prima guerra mondiale dura pochi anni ma è stata un'esperienza fulminea su questo almanacco scrivono Schoenberg Paul Klee Javlensky e naturalmente Kandinsky in questa preziosa tempera che appartiene però al centro Pompidou di Parigi e che quindi non è arrivato per questa mostra vedete una specie di summa di un Kandinsky che trasferito a Monaco ripensa alla sua Russia come a una grande fiaba una fiaba però con quelle caratteristiche cioè una fiaba che dice più del reale una fiaba che sa andare al di là del reale e allora guardate qui in basso vedete un pellegrino con i famosi calzari fatti di scorza di betulla o di tiglio poi ritrovate la ragazza con i kokoschnik poi vedete il Kreml là dietro e i pope del mondo ortodosso il tutto dipinto con piccole macchie di colore su una carta nera in modo da ottenere questo effetto di grande luminosità che deve restituire lo stesso amore per la luce che ha il contadino russo davanti alle icone d'altra parte mentre Kandinsky dipinge a Monaco altri ambasciatori del colore russo arrivano in Europa e uno è il grandissimo Diaghilev fondatore dei balletti russi che si porta con sé un ebreo un ebreo che varca il divieto di dipingere figure prende il nome di Leon Baxt ed è l'autore dei costumi come questo che vedete qui o questo delle messe in scena dei balletti russi quando i balletti russi arrivano in Europa i giornalisti scriveranno i barbari gli sciti era la Parigi di Boldini era la Parigi delle donne vestite di voile bianco o con la veletta nera si trovano davanti questo improvviso irrompere del colore e quel colore il colore che ridesta il corpo che ridesta sapienze che il corpo ha perduto ed è tutto un momento importante per i tentativi unici direi di mettere insieme l'arte e la musica arte e musica sorelle qualche volta sorellastre un rapporto meraviglioso e spesso difficile la musica nel mondo medievale era un'arte liberale perché i suoni sono eterei perché Pitagora diceva la musica nasce dal movimento dei pianeti ed è il senso della musica è innato in noi ed è nobile mentre nello stesso medioevo la pittura non era considerata un'arte liberale era considerata un'arte legata alla materia pestare i colori schiacciare gli ossidi i pittori cercano di trovare la stessa nobiltà della musica questo che vedete è un dipinto di Kupka Frantisek Kupka anche lui parte delle avanguardie dell'est nel periodo di cui ci stiamo occupando guardate una diteggiatura di pianoforte diventa cerchi d'acqua diventa colore ci avevano provato in tanti a dire ciò che si dice con la musica col colore ed ecco quel discorso che vi facevo poco fa secondo Steiner e non solo secondo lui la tecnologia ci ha privato di uno dei grandi piaceri che il creatore ci avrebbe fornito cioè la sinestesia quei popoli sciamanici tribali di cui vi ho mostrato qualche immagine sono in grado di cogliere l'equivalenza tra il suono e il colore e di far lavorare insieme le sfere percettive laddove noi ormai sentiamo vediamo tocchiamo e questa unità dell'uomo sarebbe andata perduta discorso lo ripeto complicato ma inutile altrimenti fruire di un Kandinsky solo come se si trattasse di un bravo fabbro di colori in mostra vedrete citazioni dall'uccello di fuoco una delle fiabe più amate nel mondo russo anche Kandinsky ne trae ispirazione qui ritrovate una una lacca di pale che quindi il fondo nero e la lacca e il rosso vi dicevo è il colore bello ma l'uccello di fuoco è anche la fenice e l'uccello di fuoco stravinschiano verrà messo in scena dai balletti russi così come e qui vedete un allestimento di Martha Graham per i balletti russi Stravinsky compone la sacra della primavera spettacolo formidabile fortissimo in cui Stravinsky immagina tutto un popolo tutta una tribù raccolta intorno a un centro che è poi il sacrificio alla primavera e qui vedete che Martha Graham ha creato in questo allestimento un arco ecco ritornare il tema dell'arco con quel principio che vi raccontavo e a questo punto Kandinsky che sta a Monaco che ha trovato una ragazza una donna innamorata gentile che si chiama Gabriele Münter alle prese con queste ricerche che vanno da Wagner a Steiner alla passione per la Russia alla coscienza che la razionalità non può spiegare tutto comincia ad andare verso l'astrazione io per semplificare perché è inevitabile poi soprattutto in una situazione come questa vi do le due formule che in qualche modo ci aiutano a seguire seppur molto da distante Kandinsky in questo suo volo il famoso volo dell'uccello troica verso l'astrazione allora la prima risale a Platone se l'arte copia quello che noi vediamo con gli occhi fisici essendo i nostri occhi fisici solo una debolissima replica dell'occhio assoluto che l'uomo fatto ad immagine e somiglianza di Dio dovrebbe avere se noi copiamo quello che vediamo con questi occhi copiamo le sbarre della nostra galera e quindi secondo Platone che non ammetteva infatti gli artisti nella sua città ideale nel suo stato ideale il compito dell'arte è abstraere tirar fuori l'idea e l'altro più comprensibile è quel duello con la musica che vi ho citato poco fa nessuno chiede a un quartetto di Mozart di rappresentare qualcosa esistono è vero le musiche a programma ma certo non hanno la stessa forza di rapimento che ha una una musica come quella appunto di Mozart o come la musica romantica e allora anche l'arte deve essere libera non deve rappresentare qualcosa proprio come la musica e così i dipinti di Kandinsky che diventa astratto sono hanno titoli come improvvisazione composizione come quello che vedete qui Kandinsky nel suo testo lo spirituale nell'arte farà spesso riferimento ai confronti tra suoni e colori direi che antropomorfizzerà i colori parlando di temperamento iroso per il giallo di temperamento lirico per l'azzurro di fanfare gialle e rosse e di violini e flauti azzurri e si ricorderà di quelle icone con vi ricordate l'apparizione in alto del divino il tema uno dei temi più ripresi ve lo dicevo è l'apocalisse e allora eccolo qui questa è una delle icone apocalittiche numerosissime molto più presenti nella cultura russa che non nella cultura occidentale questa è l'apocalisse diureriana una delle tavole dell'apocalisse diureriana anche qui straordinaria pensate appunto un tempo completamente nuovo basta finito reset come diciamo noi tutto comincia da capo e questa è la versione dell'apocalisse di Kandinsky suonano lo vedete gli angeli lassù suonano la tuba del giudizio e il profeta Elia corre su sul suo carro e in basso forme di tutti i santi questo per esempio è un santo cefaloforo un santo che prende la propria testa e se la porta via e sono i santi delle icone e sono anche gli sciamani perché secondo alcuni Kandinsky avrebbe rappresentato nelle sue in alcune sue opere il confronto tra la chiesa ortodossa e l'universo sciamanico ma questo ci porterebbe veramente troppo lontano questo è secondo me la perla che è arrivata alla mostra del MUDEC Kandinsky torna in Russia ed è questo che cercavo di dirvi all'inizio questa rivoluzione così pericolosa così sanguinosa così spaventosa che affama tutto un paese ha in realtà chiamato come una calamita gli intellettuali di tutta l'Europa occidentale guarda caso Kandinsky che stava bene era tranquillo una donna una casa riconosciuto Chagall addirittura enfant gatté gli piacevano i bei vestiti mangiare bene tutti e due partono e tornano nella Russia della rivoluzione e tutti si dedicano alla pedagogia cioè ad insegnare l'arte a un nuovo oggi diciamo pubblico vabbè a dei nuovi studenti che non sono più solo i figli degli aristocratici ma che sono i figli dei contadini andati in guerra e c'è in questa epopea veramente secondo me una forza di coraggio di commozione di intensità che poi è stata schiacciata evidentemente da tanti decenni di incomprensione e di realismo socialista questo quadro rappresenta la piazza rossa di Mosca due pellegrini sono lui e la moglie Nina Nina che Kandinsky ha incontrato tornando in Russia e solo sentir parlare di nuovo russo lo commuove e si sposa e sposa questa Nina che avrà una vita intensa come quella del marito che seguirà nei suoi vari spostamenti eccoli qui Vassili e Nina assistono al momento più bello del mondo perché Vassili scrive non conosce la bellezza chi non ha visto il tramonto sulla piazza rossa e intorno alla piazza rossa girano vorticosamente edifici vecchi e nuovi e il sole sembra proprio incastonarsi vedete come se lo spazio degli uomini e lo spazio celeste fosse tutto in un unico in un unico piccolo spazio e girano intorno i santi delle vecchie icone vedete e girano le croci dei cimiteri ortodossi e la stella di Davide del ghetto e là in alto arrivano le nubi le nubi del mondo nuovo quelle nubi che portano gli angeli dell'Apocalisse e i corvi raccontano come diceva Majakoski che a Mosca persino i corvi hanno fame e adesso due immagini per finire perché non potevo parlare del cavaliere azzurro senza parlarvi di Franz Mark come Kandinsky era un russo che amava le sue radici mongole così Franz Mark era un tedesco che aveva occhi scuri da principe medio orientale scrive delle cartoline all'amica Else Lasker Schuller firmandosi il tuo principe Yusuf legge Nietzsche e attraverso Nietzsche la letteratura indiana e di nuovo questo ci porterebbe lontanissimo nello spazio grande poeta grande pittore la guerra se lo porterà via troppo giovane ma questo suo cavallo questo cavallo blu è un po' il segno di una natura dolce riflessiva lo spirito del mondo secondo Mark scorre nelle vene degli animali e la dolcezza di questo cavallo che è in qualche modo occidente si affianca allo sguardo d'oro intenso selvaggio nella tigre furono insieme Kandinsky e Mark per gli anni del cavaliere azzurro poi l'uno appunto morirà sul fronte l'altro tornato in Russia scapperà quando al ministro Lunacharsky subenterà il ministro Zdanov e la rivoluzione avrà bisogno di comunicare non più all'uomo nuovo ma a un uomo che deve vivere ritornare nelle regole di una razionalità ben ben calibrata e così Zdanov proporrà l'abbruciamento il rogo dell'arte degenerata quindi tutto il Kandinsky astratto dipinto nel periodo russo verrà in buona parte bruciato d'altra parte il Kandinsky tedesco astratto verrà bruciato nei roghi hitleriani perché anche Hitler ritiene l'arte astratta arte degenerata io però non vorrei finire con un finale così tragico sono convinta che Kandinsky e Mark comunichino ancora tra di loro e che i colori che vediamo noi che siamo vivi adesso siano i colori che loro hanno sognato di lasciare al mondo che sarebbe venuto dopo di loro quindi credo a questa utopia che è l'utopia del MUDEC il museo delle culture di cui qui vedete il soffitto del Lago Rà disegnato da Chipperfield una forma come vedete irregolare che vuole abbracciare e avvolgere di una luce per l'acea tutte le culture abbiamo finito grazie grazie a tutti